Si attendeva dal 1972 e finalmente ieri è stato inaugurato. L'asse perimetrale che collega Capodichino a Scampia ha visto il taglio del nastro alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alla mobilità Anna Donati. La superstrada, che collega lo svincolo Napoli-Est della tangenziale, la 167 di Secondigliano e la circonvallazione esterna, giungendo fino a Viale Umberto Maddalena nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, nata come infrastruttura di collegamento del nascente asse mediano con la periferia nord di Napoli, porterà a un abbattimento del 55% del traffico veicolare che insiste sul corso secondigliano e su tutta la settima municipalità. Il progetto di completamento della strada ha comportato inoltre un'importante collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, i cui ragazzi hanno elaborato 50 pannelli artistici che ricoprono le barriere antirumore. Giorno importante oggi, dopo tanti anni, la perimetrale di Scampia, che collega appunto Scampia con Capodichino per passare la rampa sui Ponti Rossi, quindi utilissima per la mobilità e la viabilità di questa città, per collegare ancora meglio Napoli alla provincia. Dopo tanti anni siamo riusciti, grazie a molti, ad aprire una strada e una rete viaria fondamentale per la città.